Musica Bene, eccoci insieme anche oggi. Abbiamo ospite Fabio Amato, avvocato ed esperto di urbanistica, perché oggi si tiene a Padova, nel pomeriggio al Centro Culturale San Gaetano, un convegno dedicato alle idee per una rinascita della città. E con questo convegno prende il via, insomma, la riflessione della nuova amministrazione comunale sul disegno urbano. Nuova amministrazione comunale, ricordiamo il sindaco Sergio Giordani. Detto ciò, perno centrale del convegno, di questo simposio, sarà una relazione di João Nunes, che è architetto del paesaggio portoghese, che ha condotto a termine progetti in tutto il mondo. Ecco, perché riguardare questo architetto portoghese? Beh, intanto perché il professor Nunes ha insegnato in vari istituti nel mondo, in Svizzera e anche in Italia, all'UiUav e a Torino, al Politecnico. E quindi è un profondo conoscitore non solo della pratica, ma anche della teoria. Secondo, perché i modelli che il professor Nunes ci propone sono modelli già applicati in altre parti d'Europa, d'Italia e del mondo. E sono modelli, lui li definisce modelli estremi, nei quali ha potuto verificare sul campo come la rigenerazione urbana si fa nella pratica, attraverso, avendo poi dei risultati concreti e precisi, facilmente valutabili. Quindi, nel momento in cui avviamo una riflessione ampia su come ricostruire Padova e riportare Padova al centro del Veneto, e per fare questo Padova ha necessità di rivedere la sua struttura in un cammino metodologicamente corretto, la presenza di un tecnico di altissimo livello ci dà il là proprio su questa strada. Non presentando, ripeto, modelli solo teorici, ma lavorando sul concreto e mettendo a disposizione dei presenti, tra cui anche il sindaco e gli amministratori, delle prove di cosa vuol dire fare oggi urbanistica. Non è più come una volta lavorare sulle strutture. Oggi, e lo dirà il professor Nunez, fare urbanistica vuol sostanzialmente dire migliorare la qualità della vita e dell'ambiente. Questo chiedono i cittadini, chiede la gente che è molto più sensibile di 8, 10, 15 anni fa a queste tematiche, e questo l'urbanistica seria oggi fa, quindi non lavora più sulle strutture solo. Non è il bello l'obiettivo, l'obiettivo è il sano, l'ambientalmente corretto, quello che migliora la qualità della vita dei cittadini. Ecco, le chiederei di guardare in camera, quindi parla anche con chi è a casa. Quando parliamo di urbanistica, ci limitiamo proprio all'URPS urbana o, ad esempio, si comincia anche a tornare a ragionare in termini che so di Patreve, di Padova Treviso Venezia? Allora... Di area? Sì. Qual è la vostra idea? Dobbiamo fare una riflessione iniziale, molto semplice. L'urbanistica sta passando un cambio epocale. Negli anni 90, inizio anni 2000, si ragionava su standard, su zonizzazioni, per cui tutte le industrie da una parte, tutti i negozi dall'altra, tutta l'abitazione. Adesso vediamo che questa struttura della costruzione del territorio mostra i problemi seri, in zone industriali vuote o addirittura non realizzate, polverizzate perché ogni comune ha fatto la sua, negozi che non riescono a partire, residenza che non ha servizi. Oggi si sta entrando in una nuova epoca che è stata definita con un termine francese, cioè mixite, non più zonizzazione, ma mettiamo assieme tutte le cose proprio in quest'ottica di cui abbiamo parlato prima. In modo da fornire al cittadino il negozio di prossimità, il servizio di trasporto e di mobilità coerente con una costruzione della città. È chiaro che un modello di questo tipo non può limitarsi al nucleo centrale, perché altrimenti nel momento in cui questo nucleo si allarga ad analizzare il resto del territorio si trova in difficoltà. Quindi oggi l'urbanistica a maggior ragione e di più rispetto al passato è anche copianificazione con tutti i soggetti interessati, quindi piani urbani intercomunali, piani urbani di area nel senso più vasto del termine. Però per quello che riguarda, per come lo vediamo noi, un altro elemento importante da inserire è la interfacialità di questo intervento. Non più l'architetto che lavora per conto suo, il geologo che lavora per conto suo, l'università che fa le sue costruzioni, ma tutti assieme, fin dall'inizio, fin dalla fase della costruzione, devono mettere a disposizione le loro conoscenze. Per cui, per esempio, uno degli interventi sarà proprio su questo tema. Cosa vuol dire salvaguardare l'ambiente in un'area urbanizzata o che deve essere urbanizzata? Non vuol dire non costruire, vuol dire costruire in modo che il bilancio complessivo dell'operazione sia un plus rispetto alla situazione ambientale iniziale. Quindi se ho un'area degradata e non posso far altro che riconvertire utilizzando un'altra parte dell'area, in questa parte farò degli interventi, facciamo un esempio, i tetti in terra, in modo tale che vi sia già un assorbimento dell'acqua dall'alto, l'utilizzo, per esempio, delle cisterne di raccolta dell'acqua piovana per evitare che l'acqua vada a inserirsi nel sistema fognario, via dicendo. Quindi se io lavoro in questo modo, posso consentire al territorio di avere un quadro che magari prima era con un indice meno 0,5, non avrà certo un indice più 5, ma potrà avere un miglioramento progressivo della qualità dell'ambiente e della vita dei cittadini. Altro esempio molto semplice, se c'è un quartiere degradato per cui gli immobili sono con infissi vecchissimi o immobili anni 70-80 che hanno una dispersione di calore enorme, questo comporta gasolio per riscaldamento, gas consumo notevole, riqualifico l'area in modo tale che la qualità della vita sia migliore perché ho creato un cappotto all'immobile, ho creato dei serramenti che non fanno più uscire il caldo e non fanno entrare il caldo d'estate e quindi meno emissioni nell'area, migliore qualità della vita. Rendendo merito alla buona volontà, ci mancherebbe altro? È il fatto che oggi iniziate un percorso. Però al di là del nome, mixite, non mi pare ci sia nulla di nuovo, voglio dire, neanche forse probabilmente doveva esserci. Non credo ci possa essere un'amministrazione o comunque un ente che ha ragioni sul territorio che dica non ci vuole integrazione fra i soggetti operanti, quindi l'architetto vada per i fatti suoi, l'urbanizzata per i suoi. Cos'è che allora non funziona da fin fine? Mi sembra come quando ho ospiti che dicono che dobbiamo fare sistema fra aziende. Diamo, ne sarà 50 anni che lo diciamo. Certo. Quello che fino ad oggi riteniamo noi non ha funzionato è che poi tutto questo si traduce in termini di documentazione e atti normativi che poi condizionano l'attività delle aziende in una serie quasi puntiforme di prescrizioni. Cioè fino ad oggi tutta questa squadra è andata punto per punto ad analizzare situazioni e a dare soluzioni che poi tra loro non combaciano. Allora magari faccio un gran, faccio per fare un esempio, un bellissimo piano delle piste ciclabili funziona perfettamente ma parto dal presupposto che lo realizzerà un po' alla volta chi fa degli interventi sul territorio di urbanizzazione l'economia si ferma, le piste ciclabili sono bellissime sulla carta ma non si realizzano. Noi diciamo per esempio cominciamo a coinvolgere l'amministrazione perché alcuni interventi li si può fare risenzionando le strade non aspettiamo che ci sia il significativo intervento del privato o una nuova urbanizzazione dell'area prendo una strada, creo un sistema di circolazione che consenta di mettere in marciapiede una parte una parte della strada, la utilizzo per la pista ciclabile con opportuni accorgimenti magari c'è una strada a tre corsie, vedo che attraverso un'opportuna sistemazione della mobilità riesco ad utilizzarne due, una la utilizzo per questo. Quindi attuo un piano che ha una sua logica complessiva attraverso interventi immediati che vanno come degli incastri di un mosaico vanno un po' alla volta a costruire il progetto definitivo. Ecco, in attesa di tempi migliori operiamo sull'esistenza. È chiaro, quindi diamo anche alle aziende e alle imprese che in questo momento dicono finalmente dovrebbero aver passato la china peggiore, diamo anche uno strumento per poter avviare subito delle attività da un lato, dall'altro attraverso questo contatto tra imprese e pubblica amministrazione individuiamo anche in termini di normativa, regolamento edilizio, norme di attuazione dei piani quei passaggi che possono agevolare questo tipo di soluzione avendo già tutti assieme prima condiviso gli obiettivi fondamentali. Quindi un'altra dei problemi che ci sono sempre stati è l'amministrazione vuole un'attività protettiva di salvaguardia di un certo tipo, il privato ha una sua spiccata vocazione alla speculazione, è inutile nasconderlo. Bene, noi adesso cerchiamo di dire, cominciamo a fare intanto la cornice complessiva attraverso questi interventi del convegno dicendo in quest'ambito ci muoviamo tutti, siamo tutti d'accordo di muoverci così, non a caso il convegno è organizzato anche dall'associazione dei costruttori, quindi c'è l'amministrazione, c'è l'associazione dei costruttori, c'è l'università. Fatto questa cornice diciamo ok adesso assieme cominciamo a costruire le regole, tu di che cosa hai bisogno, vediamo se ci sta in questo ambito, tu costruttore hai necessità di regole più semplice, ragioniamoci assieme mettendo a disposizione il gruppo che sta collaborando e che ha lavorato per questa iniziativa delle professionalità, ci sono architetti, ci sono ingegneri, ci sono avvocati, ci sono esperti nella progettazione del territorio, c'è l'università che mette a disposizione anche i suoi lavori, ci sarà per esempio un bellissimo lavoro che sta facendo la facoltà di geografia di mappatura del territorio per vedere gli indici dove c'è maggior compromissione all'ambiente, dove ce n'è minore e quindi avere anche questi nuovi strumenti che fino a 5, 6, 10 anni fa non erano a disposizione, sono degli elementi nuovi che aiutano ad arrivare a soluzioni in tempi più rapidi economizzando, che questo è un concetto fondamentale, le risorse, il problema oggi è anche che le risorse sono poche, tempo fa magari si poteva pensare di fare esperimenti di sciallacuare anche nelle imprese, oggi le imprese dicono no, io ho questo e devo cercare di ottimizzare il risultato che mi viene. Grazie a Fabio Amato, avvocato esperto di urbanistica, perché da oggi a Padova allora inizia questo processo partecipato, quale Padova? Idee per una rinascita. Grazie e buon lavoro, a voi alla prossima.